ciao a tutti benvenuti a questo nuovo video oggi voglio parlare dell'avon outlet di campagna 5 come ben vedete e l'avon outlet sono prodotti già scontati di per sé quindi chi fa l'uso personale come faccio io non ci sono provisioni vengono considerati come prodotti demo in quanto non c'è la ritenuta o una tassa sopra sono al netto del loro prezzo chi acquista dall'avon outlet sempre fino al momento scorte abbiamo a disposizione con il codice 4 9 6 7 4 5 usate ma non ho gli occhiali giusti questa bellissima collana a 6 99 un'altra cosa importante da dire è che il catalogo di campagna 5 scadrà esattamente il 30 di dicembre e non il 31 per chi vuole fare gli ordini di natale in modo che arrivino i prodotti per natale occorre innanzitutto mandarlo entro ed esclusivamente non oltre oggi io intanto vi scorro le pagine vedete questa è la trilogia per diluvio crema e sfogliate a vaniglie frutti rossi ottima vedete in incanto vado avanti perché una cosa non so se si vede con le pareva strano che saltasse tutto perché se si allarga salta tutto scusate ma l'intimo se poi lo volete vedere in maniera migliore chiedete naturalmente una vostra consulente che ve lo vi o via pdf ve lo faccio vedere naturalmente qui naturalmente mi arrivano anche messaggi gli orologini questo è finito non so perché mi salti ma qui è finito quindi scusate stasera non collabora molto bene cellulare dopo l'ultimo aggiornamento comunque se vi è piaciuto mettete like altrimenti dislike non me la prendo e poi vabbè iscrivetevi magari al canale ciao buona serata e se non ci si sente più buon natale